Quale leader sarà il più forte a livello di effetto tra tutti quelli presenti nel TCG di One Piece? Quali saranno le carte che lo supporteranno durante un match e che impatto avranno sul gioco? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Sul sito One Piece Dev, link in descrizione, ogni giorno vengono aggiunte carte nuove che arricchiscono il già ricco universo dove Luffy e Churma navigano alla volta di numerose avventure. Tra le novità che hanno fatto capolino giorno dopo giorno, dei nuovi leader sono stati annunciati e a tale scopo, assieme a Pierfrancesco, un ragazzo che ha partecipato al pre-release svoltosi a grande inverno, abbiamo stilato una top proprio dei capitani attualmente presenti nel TCG di One Piece. Prima di iniziare, se volete acquistare i prodotti del vostro gioco di carte preferito o gli accessori che renderanno unica la vostra esperienza ludica, vi consiglio di visitare Fantasia Store, dove troverete un catalogo fornitissimo di prodotti pronti a soddisfare ogni vostra singola richiesta. In descrizione troverete il mio referral link che potrete utilizzare per i vostri acquisti. In più, per ogni acquisto che farete potrete beneficiare anche di un ulteriore sconto del 5% su ogni carrello ogni volta che vorrete inserendo il codice CROGIOLO5. Utilizzando il referral link aiuterete anche il canale a portare sempre nuovi contenuti innovativi che tratteranno argomenti riguardanti i vari GCC. E se effettuerete l'ordine entro mezzogiorno, la consegna sarà a casa vostra in 24-48 ore. Cosa state aspettando? Se cercate i migliori articoli, Fantasia Store sarà la risposta. In più, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, dato che molti di voi guardano i video dell'Arconte del Crogiolo, ma non avete ancora cliccato sul pulsante iscriviti. Pensate che se tutti voi lo faceste ora, potremmo raggiungere oltre i 10.000 utenti. Quindi il vostro supporto è fondamentale. Datemi una mano a far crescere la community. Basta un singolo click. Ed ora scopriamo assieme quali leader potranno ambire maggiormente al titolo di re dei pirati, prendendo in considerazione solo le carte presenti sul sito dev. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo dalla tredicesima ed ultima posizione, dove il King Viola ci dà il benvenuto. Questo leader è stato posizionato nei bassi fondi avendo un effetto che, sì, andrà a ridurre di mille il valore di potenza dei personaggi avversari, con le uniche condizioni però che ci siano almeno 10 don sotto il vostro possesso e solo durante il vostro turno. Infine, questo effetto non agirà sul leader avversario. In parole povere, utile sì, ma solo a metà. Dodicesima posizione per il Crocodile Blue. Il leader che ha fatto la sua comparsa nei pre-release di tutto il mondo, con il suo effetto ha davvero dato fastidio nel corso degli eventi organizzati. Ma attenzione, il far tornare i quattro don dal terreno al loro mazzo dedicato potrà rappresentare, soprattutto a chi non è molto ferrato in tema control, alla mancanza di risorse preziosissime che con il passare dei turni porterà lo stesso mazzo ad avere sempre più debito di ossigeno. Quindi un effetto quello del coccodrillo utile ma solo in determinate occasioni e solo se ci saranno personaggi con costo pari a 5 o inferiore sul campo. Undicesima posizione per il Luffy Rosso. Emblema del Rush nei primi scontri avvenuti durante gli eventi pre-release vi permetterà attraverso il suo effetto di assegnare un don esaurito ad un vostro personaggio o a se stesso minacciando costantemente le vite rivali con assalti sempre più aggressivi. Purtroppo il poter assegnare un solo don alla volta renderà il suo effetto per così dire riduttivo, ben distante al livello di potenza dalle zone calde di questa classifica. La top 10 invece vedrà la versione Luffy Rosso Verde battere bandiera pirata. A differenza del suo alter ego al costo di 4 don potrete settare in stato di pronto un personaggio appartenente alla tipologia supernova o alla ciurma di cappello di paglia con costo pari a 5 o inferiore garantendogli inoltre un bonus di 1000 punti potenza atti a sferrare un secondo attacco che nelle parti centrali di un match potranno davvero risultare pesanti da dover sostenere. Se fosse stato possibile innescare l'effetto del leader con un costo pari a 3 o addirittura a 2 questa carta di sicuro sarebbe salita di diritto tra le zone alte di questa lista. Nona posizione per Shanks Viola. Non abbiamo deciso di posizionarlo più in alto per un fattore più che determinante, benché il suo effetto generi un grande impatto sul match fornendo 2000 di potenza posizionando 3 don dal gioco nel loro mazzo dedicato ad ogni personaggio con tratto film presente sul terreno, quest'ultima parte ne costituirà un grande limite. Bisognerà vedere se dalla casa madre non avranno intenzione di creare altre carte con tratto film o se sarà un caso isolato che farà capolino solamente in vista di altri lungometraggi. Ci riserviamo comunque la possibilità di cambiare idea in futuro a seconda degli sviluppi del caso. Ottava posizione per un'altra vecchia conoscenza, il Kaido Viola. Semplice ed impatto se il suo effetto verrà utilizzato al momento giusto. Al costo di ben 7 don da riposizionare nel loro mazzo dedicato avrete la possibilità di distruggere la prima carta vita del vostro rivale mandandola direttamente nella pila degli scarti. Il perché della sua posizione risiede principalmente in due fattori. Il primo è che bisognerà utilizzare davvero bene il suo effetto al momento giusto durante una partita per garantirsi un grosso vantaggio ai danni di chi vi giocherà contro. E il secondo sta nel fatto che, dato il suo costo, raramente potrete impiegarlo due volte durante un match. Detto tra noi, a volte non lo innescherete neanche. Settima posizione per il Kaido Blu Viola. L'alter ego dell'imperatore, già visto, di sicuro darà una buona dose di speed all'intero mazzo, dato che assegnandogli un don quando un personaggio sotto il vostro controllo verrà messo KO, potrete giocare una carta don dal proprio mazzo sul terreno in stato di attivo, pronta per essere impiegata come meglio si crederà, magari rispondendo agli assalti avversari, utilizzando carte event dalla mano. Di sicuro questo leader vedrà la nascita di un archetipo di deck con un buon numero di blocker al suo interno, il Kaido Blocker ad esempio. Non male come nome. Sesta posizione per il Crocodile Blu Viola. Se strutturato come si deve, il mazzo del coccodrillo potrà davvero darvi un vantaggio carte non indifferente. Il suo effetto vi permetterà di assegnargli un don e di pescare una carta dal mazzo se utilizzerete una carta event e se avrete in vostro possesso quattro o meno elementi in mano. Sarà da notare che potrete usufruire di questo effetto una sola volta durante il turno corrente, ma avere la possibilità di attingere a nuove risorse più velocemente dell'avversario di sicuro vi farà dormire sonni leggermente più tranquilli. Anche qui si prevedrà l'arrivo di un bel archetipo di deck che prenderà il nome di Crocodile Event. Quinta posizione per Doflamingo Blu. Il Pellicano una volta che gli assegnerete due don più uno per l'attivazione dell'effetto, quando attaccherà vi permetterà di rivelare una carta dalla cima del mazzo. Se quest'ultima possiederà il tratto The Seven Warlords of the Sea e avrà un costo pari o inferiore a 4, potrete giocarla senza pagarne il costo in stato di esaurito. Per un mazzo che farà del controllo board il suo punto di forza, questo leader di sicuro rappresenterà un must have da schierare in lotte combattute fino all'ultimo uomo. Peccato per lo stato nel quale entreranno eventuali personaggi, altrimenti sarebbe stato troppo forte per essere vero. Quarto posto per Trafargar lo Rosso Verde. Il Parterre di sicuro spetta al Medico della Morte, dato che al costo di due don, se avrete cinque personaggi in campo, potrete far tornare uno di loro nella mano giocando di seguito un altro character con costo pari a 5 o inferiore, ignorandone il costo di evocazione, con l'unica condizione che quest'ultimo dovrà avere un colore diverso dal personaggio fatto tornare in mano. Quindi se rimbalzerete una Nami Rossa, ad esempio, potrete giocare un Capone Verde e viceversa. Se poi vorrete sfruttare gli effetti on play dei vari personaggi che faranno parte del vostro mazzo, come ad esempio Uta e Brook Rossi o X-Drake e Killer Verdi, questa abilità del leader vi tornerà molto utile per innescare nuovamente le abilità dei vari character appena menzionati. Di sicuro un grande effetto, soprattutto se i don vi serviranno per potenziare il vostro turno offensivo con l'intento di portare agli sgoccioli le opzioni difensive di chi vi giocherà contro. Terzo posto per l'oramai celebre Kid Verde. Il gradino più basso del podio va sicuramente a questo leader per due semplici motivi. Aggredisce e minaccia costantemente la pila della vita rivale. In caso di late game, ad esempio, potrete attaccare una prima volta e di seguito, spendendo 3 don, andrete ad innescarne l'effetto settandolo in stato di attivo pronto per sferrare una seconda offensiva. C'è poco da dire su questa carta. I risultati che ha conseguito nei vari pre-release a livello italiano sono la prova concreta della potenza di questo leader. Medaglia d'argento per Oden Verde. Il leader di Wano vi permetterà una volta per turno di scartare una carta dalla mano che abbia il tratto Wano Country, ripristinando in stato di attivo due don da utilizzare nuovamente per massimizzare la propria strategia di gioco. Di sicuro estendendo il proprio turno a nuove risorse impiegate durante la vostra fase o addirittura utilizzando eventi counter nel turno avversario vi garantirete una copertura assicurativa niente male. Effetto utile sia in fase offensiva che difensiva. Ed infine l'oro va allo zoro rosso. Devastante se ragionerete in fatto di costo beneficio. Ebbene, lo spadaccino, al costo di un solo donna assegnatogli, aumenterà di mille punti il valore di potenza di ogni personaggio presente sul vostro campo di battaglia. Ciò incarnerà perfettamente l'essenza dei mazzi rossi, trasformando un solo donna in un massimo di cinque donna assegnati virtualmente ai character presenti in gioco. Questo non solo fornirà un vantaggio campo non indifferente, ma anche un grande vantaggio carte, mettendo pressione al rivale che si ritroverà a dover affrontare turno dopo turno un numero sempre crescente di assalti, vedendosi costretto a ricorrere a counter che, nel corso della partita, inizieranno a scarseggiare. In più, se calcolerete che character con 4000 potranno fare il loro senza segnandogli fisicamente nessun don, minacciando il leader avversario che, di solito, avrà un valore di potenza pari a 5000, andrà da sé che Zoro risulterà davvero pericoloso, soprattutto se si costruirà attorno a lui un deck ben pensato. Magari vedremo l'alba del rush puro, cosa che a Laffi Rosso non è tanto riuscita, anche se la sua, durante i vari tornei, l'ha detta, portandosi a casa addirittura a qualche evento. Non ci resterà altro che attendere dicembre, quando il TCG ambientato nello sconfinato oceano di avventure di One Piece arriverà definitivamente sui tavoli da gioco. Solo allora potremo scoprire quale leader competerà maggiormente per assicurarsi la corona e la nomina di Re dei Pirati. E voi, siete d'accordo con questa top? Quale altro leader avreste incluso in essa? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.